Banca Popolare Volksbank si espande ulteriormente. Il 12 ottobre la banca ha aperto la nuova filiale capofila di Treviso, in Piazza San Vito, proprio in centro storico. Conteggiando la nuova nata, sono ora complessivamente 134 le filiali Volksbank operative sul territorio. Ma come commentano i nostri clienti l'offerta di prodotti e servizi made in Volksbank? È una banca interessante, una banca quasi amica, nel senso che è disponibile, gli operatori sono tutti disponibili, gentili. Quindi cambiando due o tre banche questa forse è la migliore che fino ad oggi ho provato. È una banca che mi ha dato soddisfazione fino a questo momento. Abbiamo trovato sempre disponibilità, gentilezza e cortesia, quindi per me è una banca sicuramente di riferimento per la mia attività ma anche come privato. Sono entusiasta da vent'anni che seguo la banca popolare dell'Alto Adige, mi sta bene, ho portato anche degli altri amici, è una bella cosa insomma. Io Volksbank l'ho conosciuta perché lei ha creduto in me, quando mi ha raccontato cosa volevano fare mi sembrava carino condividere il loro percorso. Entrambi stiamo cercando di tornare alla gente, mi è piaciuto oggi il discorso del Presidente di creare un rapporto più umano con la gente, quindi visto che questo lo facciamo noi con la squadra, trovavo doveroso condividere questo sforzo che noi facciamo e voi fate.